Secondo il presidente del Bacanal, Valerio Corradi, le persone a corse stamattina in piazza San Zeno per votare il 489esimo papà del Gnocco sarebbero state 8 o 9 mila. Di sicuro un numero superiore al record storico per una votazione del Sire veronese che fino ad ora si era fermato a quota 7 mila votanti. La cifra esatta la conosceremo soltanto nel tardo pomeriggio di oggi, quando saranno spogliate le ultime schede elettorali. Una cosa è certa, la sfida tra Sebastiano Ridolfi, detto Fox, candidato numero 1, e Francesco Gambale, al secolo Franz, candidato numero 2, ha acceso la passione di migliaia di cittadini che, a differenza delle precedenti edizioni, sono venuti per la prima volta a votare, anche dalla lontana provincia e dalle altre città venete, emiliane e lombarde. Fox ha scelto di presentarsi fuori dal seggio con il travestimento che l'ha reso celebre lo scorso anno e che l'aveva visto protagonista nella figura del presidente americano Donald Trump. Assieme a lui tutta la famiglia del presidente che, a colpi di megafono, ha tentato di convincere gli ultimi indecisi a votare uno. Dall'altra parte, Franz, in una tenuta più sobria, a salutare ed abbracciare amici e conoscenti che, in questa settimana, gli hanno offerto sostegno e gratitudine per l'impegno dimostrato in tanti anni di carnevale. In piazza, giovani e meno giovani che hanno vissuto una mattinata di musica e di festa, risparmiata dalla pioggia, che ha iniziato a scendere copiosa soltanto dopo le 14. Qualche tensione verso le 13, quando nonostante la fila per il voto fosse ancora lunga, il comitato del Bacchanal ha deciso, come da regolamento, di chiudere le porte. Ora non resta che aspettare qualche ora per vedere chi, tra Fox e Franz, sarà il nuovo Sire di Verona.